Questo seguono due procedimenti paralleli, uno riguarda il penale, credo che è stato già notificato agli occupanti di queste abitazioni, quindi loro sapevano benissimo di questo sequestro, che ci sarebbe stato questo sequestro, poi loro avranno i loro legali, si rivolgeranno al Tribunale per il dissequestro, quindi è quasi un atto dovuto da parte della Procura, però io ne approfitto stamattina per chiarire un aspetto di questa vicenda, perché queste indagini, da quello che sappiamo noi, di cui siamo a conoscenza, è partita il 2015 con il famoso alluvione del 5 agosto del 2015, su questo la Procura ha aperto un fascicolo, e su questo fascicolo poi chiaramente ci sono state le indagini da parte della Guardia Costiera che ha individuato in questo appezzamento di terreno, secondo la Procura, un abuso edilizio. Poi ci saranno i procedimenti, sia penale che civile, che monteranno un po' tutta la vicenda, faranno chiarezza sulla vicenda. Noi siamo stati investiti da subito, proprio all'indomani dell'insediamento della mia amministrazione, siamo stati investiti di questa problematica, di queste case sul territorio di Caminia, di cui in qualche modo ci siamo fatto carico, nel senso che noi ci siamo mossi da subito rispetto a questa vicenda, perché sapevamo che era una vicenda che si protrae ormai dagli anni 60, quindi proponendo alcune cose, questi signori proprietari sanno benissimo qual è stato l'interessamento del Comune, che andava in una certa direzione, che qui non posso dirvi, ma che loro sanno benissimo. Chiaramente l'amministrazione non può occultare, come qualcuno in passato ha fatto, occultare documenti e addossare la responsabilità di tutto ciò alla mia amministrazione. Questo ci tengo a ribadirlo fino in fondo, perché se no non faremmo chiarezza su alcune cose. E dobbiamo essere chiari fino in fondo, perché se ci sono state delle responsabilità, le responsabilità non sono nostre. Noi le nostre responsabilità ce le siamo assunte fino in fondo. Nel momento in cui gli organi preposti al controllo hanno deciso di intraprendere un procedimento civile e penale, noi abbiamo rispettato la legge fino in fondo. Non abbiamo occultato sicuramente documenti e non abbiamo avuto un atteggiamento ambiguo rispetto a questa vicenda. Noi vogliamo fare chiarezza. Chiarezza si fa rispettando la legge e soprattutto si fa chiarezza assumendosi le proprie responsabilità che ognuno si deve assumere. Noi ce la siamo assunti dal primo giorno. Abbiamo proposto anche delle soluzioni che però non sono state accettate. Questo è bene chiarirlo fino in fondo, perché se no diventeremmo ridicoli. E noi non siamo ridicoli, siamo un'amministrazione seria. Una vicenda lunga, come dicevi tu prima, risale ai primi anni 60. Siamo nel 2020, sono passati diversi anni. Ci sono in atto due procedimenti, uno amministrativo e uno penale. Quello amministrativo e l'ordinanza che noi abbiamo fatto di sgombro è stata appellata dai destinatari. Il Tarra ha dato ragione, c'è ancora un altro grado di giurizio che è il Consiglio di Stato, ma l'intervento di oggi è legato al filone penale, quindi l'occupazione abusiva di demagno di demagno marittimo. Stamattina siamo stati avvisati che su ordine della procura le forze armate stavano procedendo alla messa dei sigilli sui manufatti. L'amministrazione comunale in più sedi ha detto che non c'è la possibilità materiale che sia attuata la demolizione da parte dell'amministrazione, anche per una mera questione economica. Non abbiamo la possibilità assolutamente di procedere in questo senso.